Sembra che il film sia stato accolto molto bene, soprattutto che la nostra emozione ci sia stata restituita da un pubblico che si è emozionato altrettanto, insomma, siamo molto contenti. La sua emozione quale è stata girando da napoletano? Ma intanto quando è arrivata la proposta di Mario e di poter insieme, essendo due compagni di strada ormai da 40 anni nel mondo del teatro e del cinema, di poter raccontare attraverso la vita di un attore, da attore, questo mestiere come celebrazione della vita. L'interpretazione di Edoardo Scarpetta è l'ultimo capolavoro in ordine cronologico di Tony Servillo, grande istrione e mattatore della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, protagonista addirittura in tre film, in questa edizione del Festival. Una bella opportunità per un attore perché può mostrare diversi aspetti del proprio mestiere. Nel film di Martone sono super esuberante, anche nel film di Sorrentino il papà è un personaggio molto simpatico, molto divertente. Nel film di Costanzo invece lavoro sulla sottrazione, è un personaggio invece dolente e che deve soprattutto con pochi mezzi esprimere un grande tormento interiore. Agli giovani promesse regala questo prezioso consiglio. Non credere che questo mestiere sia un mestiere facile, che serve a uscire fuori dal mucchio, ma che è un mestiere che si mette molto spesso con umiltà al servizio di un personaggio o della creatività di un regista. E questo mettersi a servizio costa fatica, richiede impegno. Grazie. Grazie.